Quali saranno? Noi abbiamo organizzato con tutte le due le cautele uno sciopero di otto ore per quanto riguarda l'inizio della settimana prossima. Partiamo con otto ore al giorno, lunedì, martedì e mercoledì, cercando di sapere delle informazioni più concrete. Abbiamo messo sul piatto le due opzioni che noi diciamo che abbiamo più a cuore. E' il sito dove spostarci e il piano industriale che loro hanno detto che avevano presentato, ma a voce. A noi non ci è stato riferito niente di ciò, solo a voce. Noi lo vorremmo vedere nei fatti, sia quello che sia una proposta vera di stabilimento. Un sito alternativo, come loro dicevano, nel raggio di 35 km tra Battipaglia, Bellizia e Evoli. E' una risposta concreta di più sullo stabilimento, perché siccome qua siamo incomodati tutto, fino al 20 febbraio 2021, stiamo arrivando agli svolgeri senza sapere ipoteticamente dove dovremmo spostarci. e ci vogliono anche dei tempi tecnici per spostarci. Quindi diciamo che per noi è una notizia importante questa da sapere in plesso dove sarà.